ecco la, la dobbola natura iniziamo questi alberi entro un altro e adesso entriamo dentro ecco San Giuseppe e la chiesa di interno ecco la grotta della natività ecco una ripresa per la sede famiglia tutta la struttura che non è un parato ma bensì è una casa di muretti comunque buon Natale a tutti e ci vediamo nei prossimi video tipo Capodanno grazie a tutti